Si chiama Melinda Mesa, è una giornalista o meglio una reporter che si è collegata in diretta ma sullo sfondo di quest'ultima si è intravisto il marito nudo che stava facendo la doccia una gaffa incredibile quella che ha coinvolto questa bella giornalista americana corrispondente per la KCRA3 a Sacramento si è collegata a casa la donna, non ha fatto attenzione a quello che succedeva alle sue spalle dove il pubblico ha notato il marito completamente nudo che stava facendo la doccia la donna a causa del lockdown dovuto al coronavirus svolge il lavoro da casa e dalla sua abitazione fa partire diversi servizi per la televisione durante la diretta dal bagno l'uomo era nudo dietro di sé si stava facendo una bella doccetta ed è finito in maniera accidentale nella inquadratura incredibile ma fottutamente vero figuraccia tra virgolette a mio avviso, a mio modesto parere un saluto caro, iscrivetevi al canale di Narratore Italiano una buona sera da voi, buon Natale Roma 21 aprile 2020